Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, intro tranquilla, pacata, qui non posso rompere piatti, non posso far scoppiare petardi, perché sono al Bosco Verticale, ospite per una sera padrone degli uffici per una sega di Finlibera a Milano Stanze, dell'amico Dario Mortini, già sponsor di Carterino Giallo, che mi ospita al Bosco Verticale. Sotto di me l'appartamento di Romelu Lukaku, sopra di me l'appartamento di Luciano Spalletti, che stasera ha appena finito di festeggiare il compleanno della figlia Matilde, quindi mi devo comportare bene. Dietro di me la splendida cornice di Milano, che si vede dal Bosco Verticale, provo a farvela vedere, non ho la telecamera, sono col mio telefonino, comunque ragazzi c'è veramente un palorama che, vabbè, insomma, vedete. Allora, di cosa parliamo stasera? Stasera dobbiamo parlare di un avvenimento stupendo, di un doppio avvenimento. Allora, la Juventus ha perso la partita e il Ras della Fossa ha perso la dignità. Veniamo alla Juventus. Io dico la verità ragazzi, non perché avevo sfiducia nella Lazio, non prendetevi amici laziali e vi ringrazio per quello che avete fatto stasera, ma io veramente non scommettevo un euro sulla Lazio. Ero strassicuro che la Juve vincesse la partita e invece, tac, l'ha presa in quel posto. Finalmente la Juventus ha incontrato un arbitro con le palle. Il signor Fabri, romagnolo doc, orgoglio romagnolo, finalmente un arbitro che ha le palle di buttare fuori il quadrado. La Juventus ha incontrato un arbitro con le palle e dopo aver giocato un buonissimo primo tempo va a perdere una partita e dopo il passo falso dell'Inter di ieri, non solo l'Inter non perde la testa della classifica, ma addirittura guadagna un punto sulla Juve. Quindi meglio di così veramente non poteva andare. Ma veniamo al Ras. Il Ras ieri, come fa spesso ultimamente, ogni volta mette come logo profilo, come immagine del profilo su Instagram, il logo della squadra che gioca contro l'Inter per guffare l'Inter. L'altra volta ha messo il logo della Spal, l'Inter ha vinto. Stavolta ha messo il logo della Roma, l'Inter comunque non ha perso. Io ieri sera lo avevo sfidato su Instagram e gli avevo detto Ras, se hai le palle, visto che non vuoi che l'Inter vinca lo scudetto, domani come foto profilo su Instagram metti lo stemma della Juve. Io che il Ras lo conosco da sempre come personaggio e come pagina anti-Juventina, mai e poi mai mi aspettavo che il Ras mettesse veramente lo logo della Juve come foto profilo. e l'ha messo. Ovviamente siccome il Ras colleziona dai tempi del rotto maggio, cioè con me non ne vince una, non ne azzecca una, ovviamente cosa è successo? Non solo la Juve ha perso ma l'Inter ha guadagnato un punto dalla Juventus. Però Ras veramente. Io ieri quando ti ho fatto quella provocazione, mai e poi mai mi aspettavo da parte tua che tu l'accogliessi, cioè la dignità, mai mettere lo stemma della Juve come foto profilo. Io non lo farei mai, mai. Cioè poi io voi, voi tre, vi conoscevo veramente come pagina anti-Juventina. Cioè io pensavo, speravo che voi foste anti-Juventini almeno tanto quanto me. Cioè invece avete fatto una figura di merda e avete pure perso la dignità. Adesso vi stanno infamando tutti perché avete fatto la figuraccia e vi siete svenduti alla Juventus. Cioè mettere il logo della Juve come foto profilo su Instagram. Cioè io penso che più in basso di così veramente non si poteva cadere. È una cosa veramente incredibile. Incredibile. Non ho parole. Non ho parole. Comunque godiamoci questo bel weekend. Questo bel weekend che sulla carta dopo venerdì sera, dopo Roma-Inter sembrava dovesse essere un weekend triste e invece quella della fine è un weekend fighissimo. Cioè se mi dicevano preferisci che l'Inter vinca e la Juve vinca, così ti mantieni la testa della classifica. 100.000 volte più bello così. Con l'Inter che pareggia e la Juve che perde. 100.000 volte più bello così. Iscrivetevi al canale YouTube numero 10. Clic 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 clic. Presto su YouTube mi vedrete in un video in collaborazione con i Pirlas V. E non vi svelo ancora niente. Seguitemi su Instagram. Lunedì puntata scoppiettante di cartellino giallo. Vi prometto che mi presenterò bardato da capo a coda laziale. Anzi Camilla Spinelli portami tutta la roba della Lazio che hai. Maglietta, cappellino, la sciarpa ce l'ho. Voglio fare tutta la puntata bardato da Laziale. Seguitemi anche su Facebook e poi come dico sempre fate quel cazzo che vi pare. Dal Bosco Verticale è tutto. Ciao ragazzi!